Solitudine, marginazione e paura sono molto spesso l'oggetto delle segnalazioni raccolte dal mondo giovanile durante la pandemia. L'allerta sul sostegno psicologico delle persone più vulnerabili è alta, ma non bisogna neanche drammatizzare. All'Aquila il team della professoressa Rita Roncone e del professor Massimo Casacchia si occupa da sempre di questi temi e l'impatto dell'epidemia sulla salute mentale degli adolescenti e dei giovani adulti è stato l'oggetto di un webinar organizzato dal Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della vita e dell'ambiente e dall'associazione Rocco Pollice Ollus con diversi patrocini, quello dell'Ateneo in primis. Sicuramente la chiusura delle scuole, la chiusura delle università, la mancanza di socializzazione, il rimanere per molto tempo in casa, in famiglie anche conflittuali che potevano avere problemi, gli stessi problemi ad esempio di sovrapposizione delle reti ha inciso molto pesantemente sulla salute mentale dei ragazzi. Noi in particolare per esempio abbiamo studiato gli universitari visto che questo è il nostro bacino di utenza considerando che il mio servizio della ASL nello scorso anno proprio nei mesi del lockdown è stato chiuso perché i nostri sono interventi elettivi, è un ambulatorio per interventi elettivi non per interventi d'urgenza. Infatti l'anno scorso noi abbiamo fatto il 70% delle prestazioni in meno anche perché giustamente le persone forse non si fidavano neanche di venire in ospedale. Adesso l'attività da un punto di vista proprio della ASL è ripresa, ci sono molti adolescenti, un grande stato di sofferenza. Per quanto riguarda i ragazzi un po' più grandi, quelli universitari, già dall'anno scorso abbiamo sicuramente osservato una grande modifica giustamente degli stili proprio di vita con disturbi del sonno, disturbi della concentrazione e dell'attenzione che abbiamo studiato hanno poi inciso anche sugli esiti accademici. Il 50% degli studenti riferiva che non poter più studiare in ambienti sociali ha comportato una riduzione del loro rendimento. Il dato molto interessante è che a parte gli studenti che già studiavano a casa con i loro genitori, tutti gli altri che per esempio studiavano in biblioteca, anche se non studiavano con gli altri. Di fatto essere immersi in un ambiente sociale, socializzante, con tante piccole opportunità è come se desse una chance in più, una chance di apprendimento addirittura. Relatori di primo ordine per affrontare le conseguenze che il confinamento e le restrizioni imposte dalle misure di contenimento del Covid hanno comportato sulla salute mentale di adolescenti e giovani adulti. Sono stati presentati anche tre lavori scientifici meritevoli del premio dedicato al professor Rocco Pollice, arrivato alla quinta edizione, sponsorizzato dalla famiglia Pollice, su stimolo dell'associazione Rocco Pollice Ollus, la cui presidente, la dottoressa Valeria Bianchini, ha diffuso e incoraggiato giovani ricercatori a partecipare al premio.